Il Consiglio Arturiano della Nove Dimensione, via Daniel Scranton, traduzione Erika Shanti, le energie attuali che stiamo mettendo nei vostri campi. Saluti, siamo il Consiglio Arturiano, siamo lieti di entrare in contatto con tutti voi, vi abbiamo dato opportunità dopo opportunità di riposarvi e rilassarvi, di permettere a noi e ad altri di fare parte, se no tutto, del lavoro pesante per voi, mentre andate avanti come collettivo, ma c'è ancora qualcosa dentro la maggior parte degli umani, un po' della programmazione che vi dice che siete responsabili di fare tutto e di portare a termine tutto attraverso il duro lavoro. Ora, naturalmente, ci sono volte in cui lavorate duramente e ci sono volte in cui vi perdete nel vostro lavoro, percroammate così tanto, e poi ci sono le volte di cui parliamo, in cui vi caricate di troppe responsabilità, potete fare così tanto solo attraverso l'azione fisica, e potete fare molto di più quando siete aperti rilassati e ricettivi, perché in quei momenti, riceverete un po' di ispirazione, e poi ve ne andrete e prenderete molto poca azione e otterrete molto, oppure scaricherete alcune energie che vi daranno alcuni aggiornamenti e attivazioni, e quegli aggiornamenti e attivazioni vi renderanno più efficaci nel lavoro che fate, nelle azioni che intraprendete. Vogliamo che voi sappiate che le energie provenienti da questo collettivo, e da tutti gli altri esseri e collettivi che conosciamo, hanno lo scopo di rendere le vostre vite più facili e migliori, non più difficili e piene di lotte e conflitti. Vogliamo che voi sappiate che non siete lì per fare in questa vita, siete lì per diventare, e quello che siete lì per diventare non è solo un autore, un oratore o un architetto, siete lì per diventare il vostro se superiore, e per farlo non è necessaria alcuna azione da parte vostra, ma richiede che voi sentiate tutto. Avete notato quanto spesso agite per compensare una sensazione che non volete provare, che non volete nemmeno ammettere che esista dentro di voi, bene, noi sì, ci piace vedervi agire da quel luogo in cui siete nel flusso, cavalcando un'onda di ispirazione, di download idee, e quando vi vediamo lavorare faticosamente per una sensazione di disperazione, vi inviamo ancora più energia, vi inviamo ancora più ispirazione e manifestiamo nella coscienza collettiva umana al desiderio di co, creare con voi un mondo migliore per tutti, un mondo in cui tutti possono perseguire i propri progetti di passione, fare ciò che desiderano veramente fare, questo è il nuovo modo, questa è la nuova era che vediamo sorgere in questo momento e siamo felici di farne parte con voi, ma siamo sempre alla ricerca dei più di voi che partecipino consapevolmente a ricevere tutti i doni, tutta la bellezza e tutto della saggezza che dobbiamo mettere proprio lì nei vostri campi energetici, dove potete accedere a tutto in qualsiasi momento, siamo il consiglio arturiano e ci è piaciuto connetterci con voi.